bravetta e della strage di donne per la rivolta del pane a Ponte di Ferro. E io credo che nessuno possa permettere a nessuno di sfilare per le vie della città infangando, ingiurando, oltraggiando quella storia nobile di Roma. Noi daremo il nostro contributo affinché domani Roma non subisca, rispetto all'ordine pubblico, da anni per l'autorizzazione che è stata concessa. E collaboreremo in tutti i modi. Però non permetteremo e inchiuderemo la responsabilità di tutti se Roma verrà offesa ancora una volta da organizzazioni che, come ho ricordato, vantano tra le proprie fila centinaia di denunciati, preati di violenza e quant'altro. Autorizzare un corteo semplicemente perché qualcuno ha candidato sindaco e leader territoriale di una di queste organizzazioni, a noi francamente sembra cosa inadeguata. Noi comunque speriamo che domani le forze dell'ordine, con la guida del prefetto e del questore, possano garantire perlomeno tranquillità e serenità a tutti i romani. Grazie. Grazie, collega Miccoli. Adesso passiamo all'interpellanza urgente numero 21377 dei deputati Pesco ed altri, concernente chiarimenti ed iniziative di competenza circa l'attività del Fondo di investimento Atlante, con particolare riferimento ai possibili rischi per i risparmiatori. Vi chiedo al deputato Daniele Pesco se intende illustrare la sembra di sì, prego. Grazie Presidente. Oggi parliamo del Fondo Atlante, non peraltro perché si è diventato praticamente un protagonista del sistema bancario italiano. Il sistema bancario italiano che attualmente è un pochino in crisi, ce ne siamo resi conto un po' tutti. Se ne sono resi conto soprattutto gli investitori, anzi i risparmiatori di quattro banche importanti del territorio che sono state poco tempo fa, per così dire, salvate dal Governo, in realtà per noi sono state scippate ai loro azionisti e sono state appunto destinate ad altri banchieri che a breve le acquisteranno. Ma andiamo avanti. Il Fondo Atlante che cos'è? Da quello che ci apprendiamo dalle dichiarazioni.